Un luogo un po' insolito per le nostre zone del lago di Garda, in mezzo agli animali, un posto forse troppo poco conosciuto, ma che dà la possibilità di vedere animali esotici. Ci troviamo nel Comune Polpenazze del Garda, in un ambiente privato ovviamente, in cui sono custoditi numerosi animali, parte sono del proprietario per la passione, parte sono quelli confiscati dal corpo forestale dello Stato. Abbiamo voluto incontrarci qui con l'assessore al turismo e alla cultura della provincia di Brescia, Silvia Razzi, perché credo che si possa fare anche di questa realtà uno strumento turistico. Devo dire che questo zoo, perché alla fine è un piccolo zoo nel cuore della Valtenesi, è sicuramente un posto che può offrire un'offerta alternativa alla zona, nel senso che il turista che arriva in Valtenesi, tra l'altro siamo proprio alle porte della Valtenesi per chi arriva dall'area di Bedizzoli, quindi il bacino entrando dalla città, offre appunto un'alternativa a quello che è il turista che arriva su questo territorio. C'è un turista che ama l'ambiente, che ama il verde, gli animali, il paesaggio e che ama vivere anche una vacanza legata alle emozioni e a un qualcosa di diverso. Non esiste un altro su tutto il bacino del lago di Garda. Chiaro è che assieme bisogna cercare, fra pubblico e privato, di valorizzare un luogo importante come questo. La provincia sta già aiutando con il comune questa realtà privata, ma che alla fine appartiene un po' a tutti noi, perché chi abita su questo territorio sa bene il passaggio di turisti e di persone all'interno di questa area. Vi ricordo che i sette comuni della Valtenesi sviluppano una presenza ogni anno di 1.900.000 presenze, e quindi una fetta importante del turismo gardesano, che può essere rivalutato anche nell'ambito di un contesto turistico legato all'ambiente, alla natura e agli animali. Ovviamente la conoscenza di questa realtà è sovvenuta in questi giorni anche per un fatto luttuoso, la morte della tigre che la retenevano come un animale da casa. Ne sta soffrendo la leonessa che viveva con lei. Ma chiediamo all'assessore se riesce a ricordarsi un po' tutto quello che c'è qui, sono tanti. Tutti tutti no, ma direi partiamo dai cinghiali, tra l'altro un problema relativo proprio all'altogarda che è stato tema di polemiche lo scorso anno, ma poi le teche dei serpenti, uccelli rapaci, pappagalli, puma, tutta una serie di animali che comunque hanno bisogno di mantenimento giornaliero, i poni per esempio per i bambini, quindi anche l'interesse da parte delle famiglie a visitare un mini zoo come questo. Appriamolo al pubblico? Sarebbe bello apriarlo al pubblico, magari per la prossima stagione, è sicuramente un'offerta alternativa al territorio.